Ebbene sì, Monica Sarnelli, io accanto a me ho il maestro Mariano della Morte, il quale sono tre giorni che non dorme dal momento in cui ha saputo che tu venivi qui. Allora si è preparato la partitura, le note e tutto, dice vogliamo, vuoi chiedere a Monica se facciamo un momento live? Te la sentiresti? Anche se la mattina non si canta, non abbiamo effetto e tutte queste cose qui. Ma ma Monica è una grande artiste. Allora io canto a tutte le ore, devi sapere, perché io se non canto moro, per cui mattina, pomeriggio, sera. Poi vediamo se il maestro si preparate, che stasera si bemolle? Si bemolle. Oh, vediamo un po'. Che bella tonalità, brava, brava. La tonalità grande, vedi. La più alta che c'è, no, eh. No, è che si bemolle va bene per strumenti a fiato. Ok. Che stasera non ci faccia abbiglia vita come vedi, ma ne va grinta notte in un bicchiere, va a dormire a verità. A do' stai? A do' stai? O che bella che si te ricorda, ma fai male assai. A do' stai? A do' stai? Rintacqua l'amore da nascun, che stasera i volessi sulla te. Maestro Mariano della Morte, solo cose belle, il club di Giovanni Napi. Iniziamo dalle cose belle.